Concorrente numero 1, Alessia Del Pizzo Un bel applauso a tutti di incoraggiamento, forza, sulle mani! Alessia, 18 anni, arriva da Vado Nigure Concorrente numero 2 Melissa Benjamino, 20 anni, da Arma di Tarzan E la giuria prende i suoi appunti! Concorrente numero 3, Martina Boba Martina, 17 anni, arriva da Chiamari Concorrente numero 4, a 18 anni, arriva da Ventimiglia Linda Massaro Concorrente numero 5, Mara Siracusa Mara, 16 anni, arriva da Ventimiglia Concorrente numero 5, Mara Siracusa Mara, 16 anni, arriva da Ventimiglia Concorrente numero 6, in passerella, Roberta Pennini, 18 anni, da Sanremo Concorrente numero 7, arriva da Genova e ha 18 anni, Veronica Argiolas Mara, 16 anni, arriva da Ventimiglia Mara, 16 anni, arriva da Ventimiglia Mara, 16 anni, arriva da Ventimiglia Mara, 17 anni, con noi, a 17 anni Concorrente numero 9, in passerella, concorrente numero 9, Francesca Giozzino, arriva da Genova e ha 24 anni Concorrente numero 10 Lei si chiama Giulia Di Vincenzo, 19 anni da Sanremo Concorrente numero 11 Lei arriva da Genova, 18 anni, Ilaria Poggio Concorrente numero 12 Sara Vicale, 18 anni da Genova Concorrente numero 13 Stefania Tommasi Stefania arriva da Genova, ha 22 anni Concorrente numero 14 Lei arriva da Genova, ha 19 anni, Jessica Lovecchio I want you to go back, a Holy Witch Concorrente numero 15 Jaclyn Faez Jaclyn, 24 anni, arriva da Sistri Levante Concorrente numero 16 In passarella Giulia Carvaneto, 19 anni da Genova Concorrente numero 17 Luisa Masi, 22 anni da Genova Concorrente numero 18 Roberta Moroni Roberta, 25 anni, arriva da Sanremo Facciamo un applauso a queste ragazze Perché non era facile sfilare qui